Gli scollati sono attivi per 100.000, il morto e l'aletto da fortuna la conta. Venita tutto e adesso stanno iniziando a tornare a casa. Ho partito dall'autorità locale, che è stato inviolto l'inascendimento di tutte le azioni, c'è un'operezza colpita dal terremoto, quindi non solo hanno perso la casa, ma anche il lavoro. Iniziano due categorie, si ha perso proprio tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.